Ebbene sì ragazzi, finalmente Mr. Allegri ha deciso di far giocare in Champions League il nostro Luigi Ceco. E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNight91, ci ritroviamo su FIFA 17 nella modalità carriera, giocatore con il nostro Luigi Ceco da tutti, chiamato Gigi Nucicat, e adesso andiamo a fare subito questa partita e portiamo a casa una vittoria, anzi facciamo gol. C'è sempre un piccolissimo problema, Nucicat deve giocare come punta destra, non come punta sinistra. Mannaggia d'Allegri! Ma come è mostro ragazzi, sembra che si è preso un pugno in faccia. Ok Di Bala parla con il nostro Luigi Ceco, dice muoviti bene perché oggi facciamo tanti gol e abbiamo una grande possibilità eh. Iniziata forza Luigi Ceco. Passaggio a Chedira, Di Bala, Di Bala... ok la passa a noi. Il tocco è buono, Marchisio la tocca subito, visione di gioco più uno, il passaggio Luigi Ceco fa una finta, attenzione Luigi Ceco salta l'avversario, Luigi! La parata del portiere con i piedi. Bene, prima occasione creata dal nostro Cicat, mamma mia che Cicat. Ok, ancora Luigi. Il tocco, il tiro! Palla fuori, la Juve si avvicina. Ci ha provato Pjanic. Pjanic. Nulla da fare. Chedira per Luigi. Luigi, prova il tiro da lì. Ci prova. Va bene. Ci abbiamo provato, i tiri dalla distanza sono ancora da migliorare. Vai. Ok, ok. Il tocco c'è. Aleksandro. Il tocco a Luigi Ceco. Luigi Ceco vede Pjanic. Il tocco è buono. Luigi Ceco scatta. Attenzione. Ok, il tocco è buono. Luigi, Luigi, Luigi con il sinistro. Eh, eh, eh. Attenzione, il tocco. La chiusura non riuscita. Il tiro fuori di poco. Attenzione al Borussia. Di bala. Di bala. Luigi. Luigi. Cerca di andare sulla fascia. La tocca ad Aleksandro. Aleksandro. Ancora Aleksandro. La mette in mezzo. Luigi di testa. No. Finisce il primo tempo, ragazzi. Stiamo prendendo sette in pagella. Peccato. Potevamo segnare. Secondo tempo. Luigi Ceco e Di bala battono. Ok. Quadrado. Chiede il pallone Luigi. Luigi subito per Di bala. Di bala stoppa. Ancora un tocco. Tira. No. Aleks. Mamma mia. Che bella azione abbiamo creato. E l'ha colpita male. Attenzione che ha capito tutto Luigi. Luigi rupe il pallone. Tira. Traversa. Traversa. Che cacchio. Di bala. Salta l'avversario. Attenzione. Ancora Di bala. Di bala. Ancora lui. Di bala. E attenzione. Qui che succede il casino. Ancora un tocco. Il passaggio è di bala. Di bala subito. C'è ancora un tocco. Ancora uno. Sky. Dai. Dai. È la parata del portiere. Mannaggia. Belle occasioni. Costruiamo bene. Il pallone si gira in una maniera impressionante. Si fa vedere Di bala. Il tocco. Il tocco. Il tocco. Sì. Finta. Sattiamo l'avversario. Non riusciamo a tirare ancora. Non ci credo. Ma non entra proprio questa palla. Non ci posso credere. Ancora una volta la palla a fil di palo. Ecco qua. Il tocco è buono. Il tocco ad Asamoah. Asamoah. Richiede il pallone Luigi. G. E la para ancora il portiere. Otto in pagella. Incredibile. Abbiamo tirato solo noi. Nulla da fare. Portiere. Para. C'è Mandzukic nell'area di rigore. C'è Mandzukic nell'area di rigore. Serviamo quadrado. È la parata del portiere. 8.3. Non riusciamo a segnare. Finisce ragazzi. Il risultato di 0-0. Ma Luigi Cieco ci è andato proprio ma proprio vicino al gol. Meritava di più. Abbiamo preso un 8.3 migliore in campo. Luigi Cieco. Uomo partita. Sì. Ti ho inserito nella formazione titolare di oggi. Contro il Chievo ragazzi. Si rigioca a titolari. Ok. Ovviamente giochiamo come punta sinistra. Non punta destra. Li brucia proprio mettermi punta destra. Piazza la omette come esterno sinistro. Sturaro per Allegri è titolare. Rugani è titolare. Asamoah è titolare. Ma. Andiamo. Ok. Il match è iniziato proprio adesso. Come la dai? Come la dai? Benissimo. Ok. Il passaggio è buono. Tocca la Di Bala. Maledetto. Ancora Luigi. Oh. Oh. C'è la parata del portiere del Chievo Sorrentino ma un mio amico di squadra mi ha fatto lo sgambetto. Passaggio a Quadrado. Quadrado la deve dare subito. Mannaggia la doveva dare a Di Bala. Ecco il passaggio a Di Bala di Luigi. Luigi. Si fa vedere Luigi. Il tocco molto buono. Luigi. Che bomba. Che bomba signori. Che bomba. Che bomba. Il gol di Luigi Ceco. Non ci credo che bomba ha tirato. Un siluro incredibile. Un siluro incredibile. Gioca molto bene affiancato a Di Bala. Il nuovo attacco. Luigi Ceco di Bala. Altro che Iguain di Bala. Ah. Mamma mia che siluro. Che siluro ha tirato. Ah. Attenzione. C'è questo tocco. Anche questo. Vai così. Ok. Luigi. Fa una finta. Salta l'avversario. Luigi di nuovo. Questa volta Sorrentino dice di no. Mamma mia signori. 8.1. C'è una deviazione del difensore. Si continua. Luigi. Ha spazio. Ecco qui. Attenzione. Fa tutto da solo. Luigi. Prova il tiro. E questa volta la colpisce male. Floro Flores. Floro Flores. Oh. Che cosa abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto signori. Cosa abbiamo fatto. Abbiamo rubato il pallone. Abbiamo fatto segnare Di Bala. E vabbè. E va bene. E va bene. Al quarantesimo 2 a 0. Segna Di Bala. Abbiamo. Contraccambiato quello che ha fatto Di Bala. Per il nostro primo gol. Nulla da fare. Luigi chiede il pallone adesso a Sturaro. Sturaro due anni e nulla da fare. Finisce il primo tempo. 2 a 0 per la Juve. Inizia le danze. Luigi cieco. Le conclude Di Bala. Con un ottimo pallone rubato. Sempre dal nostro Ciucat. Attenzione a Chievo. Che si fa pericolosissimo. 2 a 1. 2 a 1. E... Neto non si è per niente visto. Radovanovic. Eccolo qui Luigi. Non si trova bene con Iguain. Iguain è troppo lento. Non crea spazi. E nulla da fare. Ecco Iguain. Iguain. E toccala. Sulla fascia. Amma mia. Quadrado ci ha provato qui. C'è la parata di Sorrentino. Dai. Dai. Bravo Iguain. La tocca Luigi cieco. Luigi ci prova. Troppo alta. 7.7. Abbiamo segnato. E stiamo prendendo poco in pagella. Bravissimo qui. Bravissimo. Mettile in mezzo. No. No. Ha perso troppo tempo. Pallone in mezzo. Attenzione. No dai. Non ha visto il pallone. Non l'ha visto proprio. Finisce ragazzi. 2 a 1 per la Juve. Un gol di Luigi cieco. 7.8 in pagella. Non sarà il migliore in campo. Perché secondo me è Di Bala. Comunque. Di Bala migliore in campo. 9.1. Questi sono gli obiettivi che ci aveva chiesto. Mister Allegri per le partite contro il Milan. La Samp. In Napoli. E il Chievo Verona. Una valutazione di 8.7. E noi abbiamo avuto 7.8. Quindi non ci siamo riusciti. Voleva almeno un gol. E ci siamo riusciti. Mantenere una percentuale di realizzazione pari al 13%. E noi 20%. Ci siamo riusciti. Un assist. Non ci siamo riusciti. Quindi. Due obiettivi su 4. Adesso match contro il Pescara. Secondo me giochiamo. Secondo me. Vediamo un po'. Allora. Questi sono gli obiettivi che ci chiede. Valutazione media 9. Segna almeno un gol. Percentuale di realizzazione. 21%. affronteremo il Pescara, Genoa, Atalanta e Torino. Secondo me abbiamo buone possibilità di giocare. Ti ho inserito nella formazione titolare. Bene. Perché nella prossima partita la Juve giocherà in Champions. Quindi non giocheremo lì. Come sempre punta a sinistra. Ma oramai. Ci ho fatto il callo. Ok ragazzi. La partita sta per iniziare. Abbiamo una grandissima possibilità. Giochiamo contro il Pescara. Quindi possiamo segnare più di un gol. Allora Luigi subito. Cambia fascia molto bene. Ecco qui lo stop di piazza. Il tocco. Ancora uno. Sbaglia che dira. Mannaggia lui. Attenzione. Zampano. Zampano. Mette in mezzo. Mamma mia. Cosa ha fatto Caprari. Che bel tiro ha fatto Caprari signori. Guardate il cross. Sforbiciata assurda. Meno male. Il pallone non è entrato. Ma giocano tutti. Tranne che Buffon in porta. Chiede subito il pallone Luigi. Luigi la tocca a piazza. Ecco piazza. Se ne va sulla fascia. Piazza. Ridà il pallone a Luigi. 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 Vede l'inserimento di Di Bala. Va a fangulo. Di Bala. Va a cacare. Attenzione. Attenzione. Luigi. Il tiro. La parata di Bizzarri. E meritavamo di più qui. Dalla. Tieni. Tieni. Piazza. Dalla. Dalla. Di nuovo. Ok. Mamma mia. Il tocco da Samoa. Che cacchio fa Di Bala. Ma cosa fa oggi Di Bala. Bravo. 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 Il pressing ha funzionato. Il passaggio. E vai Di Bala. E vai. E mannaggia Di Bala. Passaggio. Ad Asamoa. C'è la puttana. Deve far giocare Samoa. Deve far giocare Sturaro. Deve far giocare Piazza esterno sinistro. Dai. Dai. Tieni. Forza Piazza. La riesce a toccare Di Bala. Chiede il pallone. Non gliela dà. Non gliela dà. Attenzione. Pallone in mezzo. Ah. Il cross da Soterra. Non arriva al numero 27. Sturaro calcio d'angolo. Dai. Dai. Passaggio a Di Bala. Di Bala. Il tocco. Attenzione. Il passaggio. Molto buono. No. Tocca a Di Bala. Vediamo se la riesce a stoppare sta palla. C'è riuscito? Ok. Dalla. Madonna. Dai. Vai. Così. Poi segna lui. Segna la persona che non meritava proprio il gol. E poi non ho fatto neanche assist. Ma va a cacare va. Sono contento che siamo in vantaggio. Però mamma mia. Di Bala non ha fatto nulla. Ho creato tutto io. E poi segna lui. Perché il portiere deve parare. Si faceva i c***i suoi. 7.2. La valutazione in questo primo tempo per Luigi Cieco. Che è stato l'unico a creare qualcosa. Luigi. Bravissimo. La tocca sulla fascia. Piazza. What the f***? Bene. 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 Si gira Luigi. Salta l'avversario. Luigi. Luigi di precisione. Eh. Però ha tirato come Raimondo Vianello. Guarda Piazza. Mamma mia che cambio. Mamma mia che cambio. Mettila in mezzo. Molto bene Luigi di testa. Non arriverà mai. Non arriverà mai. Al massimo può colpire con il naso. Bel tocco. Pjanic la ridà subito. A Luigi. Tiro. Niente. Siamo sfortunati. Noi non segniamo. Dai dai dai. Eh dai. Di Bala. Ma lo fa apposta Di Bala. Dice. Ho segnato. Adesso vinciamo 1-0. Mi prendo l'uomo partita. Adesso non faccio segnare Luigi. Dice. Secondo me è così. Cioè perché non mi passa più il pallone. Non l'ha mai fatto. Segna solo grazie a me. Nanetto feroce. Piazza 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 piazza. Il tocco è buono. Di Bala. Guarda adesso che sbaglia. Guarda adesso che sbaglia. Oh. Perché Marchisio? Perché? Attenzione al contropiede del Pescara. Attenzione al contropiede del Pescara. Rugani è pure lento. Madonna mia. Dai dai che è quasi finita. Dai che è quasi finita. Voglio tirare l'ultima volta. Cambia fascia. Finisce. 1-0. Juve segna Di Bala. Grazie sempre a noi. Ovviamente lui sarà l'uomo partita. Andiamo a vedere. Di Bala uomo partita. 8.6. Noi 7.5. Iguain 6 poi vabbè. Vediamo se contro il Monaco giochiamo. Ma non penso. Non penso. Non sei stato inserito nella formazione di oggi. Bene. Vediamo il risultato. La Juve vince 2-0. Segna al trentesimo quadrado. E all'ottantaduesimo. Di nuovo quadrado. Quando gioco io non fa un cacchio. Contro il Genoa. Nella prossima puntata. Saremo di nuovo titolari. Attualmente. Questa è la classifica. Con l'Inter. In prima posizione. Ma la Juventus. Piano piano. Si avvicina. C'è solo un pareggio di differenza. Mentre. In Champions. La Juventus. Si è già qualificata. Però l'ultima partita. Deve cercare almeno un pareggio. Per portarsi a casa. La prima posizione. Quindi ragazzi. Luigi Cieco. Vi saluta. Anche oggi. Vi ha fatto vedere un grandissimo gol. Ha fatto segnare Dybala. Dybala è un po' birichino. Se la puntata vi è piaciuta. Lasciate tanti bei pollicioni in su. Condividete. Commentate. Ciao a tutti. Da PierreDarkNight91. No non ce la facciamo. Dobbiamo andare via. Ultima spalata. Poi prendiamo lì e ce ne andiamo. Non ce la facciamo. Sono le quattro. Quasi le quattro. Forse ritorniamo. Ma non è detto eh. Dai. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.